Cercavo un percorso professionalizzante nel mondo ET, la posizione della DevOps è abbastanza completa. La possibilità appunto di imparare cose nuove applicando in realtà un proprio metodo di studio. Vedendo questo annuncio mi trovavo molto interessato sia per la tematica cloud che volevo approfondire e sia per questa questione di poter apprendere tutti quanti questi strumenti e queste metodologie che poi potevo utilizzare per la mia vita professionale futura. DevOps non si specializza in un'unica cosa ma è un campo molto più vasto. Altre offerte che ho ricevuto ad esempio erano molto più training on the job direttamente quindi semplicemente insegnavano a lavorare direttamente nel pratico ma tutta la teoria di base non la insegnavano. L'Academy invece qui mi sta insegnando davanti alla base dell'infrastruttura di base del DevOps quindi sono conoscenze in più per ricevere il lavoro al meglio. La collaborazione con i compagni, il rapporto che ho sia con i tutor che con i colleghi in generale. Mi piace come è strutturata, c'è una teoria molto importante accompagnata da una pratica seguita dai tutor dalla possibilità al singolo individuo di affrontare problemi e crescere personalmente. Ci danno diciamo un percorso da seguire, noi lo seguiamo senza magari concentrarci su un metodo specifico dato dal loro di studio che magari non può essere adatto a tutti ma ecco ognuno magari è libero di interpretarlo, muoversi al proprio modo per arrivare appunto allo scopo ultimo quello di imparare il lavoro e questo nuovo ambiente. E quindi questo ci spinge anche a trovare soluzioni magari con una certa inventiva, magari soluzioni non proprio convenzionali e credo che dal punto di vista della formazione questo sia molto di beneficio. Abbiamo sempre tutor a disposizione, ci seguono, sono sempre disponibili a risponderci a messaggi e quando sono in sede comunque ci aiutano costantemente. C'è un rapporto anzi molto sereno, possiamo in qualsiasi momento davvero contattarli e chiedere informazioni o chiarimenti o spiegazioni. La comunicazione con i colleghi, tutto quello che riguarda magari il sapere organizzare la vita privata con il lavoro. Impari anche a gestirti da un punto di vista anche gerarchico, il modo in cui ti trovi con i superiori, il modo in cui ti trovi in generale nella vita aziendale e nella vita professionale. Ho acquisito skill di sicuramente team working perché con i miei colleghi dell'academy, anche senior, abbiamo collaborato spesso e volentieri per qualche progetto, qualche esercizio. Mi ha insegnato molto a interfacciarmi o come interfacciarmi con colleghi. Un approccio diverso al come risolvere problematiche e al problem solving che sicuramente è una mentalità che prima non avevo. Soprattutto alla comunicazione perché essendo una persona un po' ansiosa magari tendo a usare terminologie sbagliate, invece mi sto abituando tecnicamente soprattutto a usare terminologie giuste. Come posto di lavoro sicuramente mi piace, è un bel ambiente ottimo, ci hanno integrato anche loro, creato abbastanza bene, noi pian piano stiamo ancora magari muovendo i primi passi, sono pochi mesi che stiamo qui però quello sicuramente almeno per me è stato un bel passo avanti. Grazie a tutti!